Questo è il Fiat Music Studio, il van che accompagnerà in cinque tappe per tutta l'Italia questo tour che vede protagonisti, i giovani talenti. A guidare la squadra sarà un personaggio d'eccezione che ci aspetta qua dentro. Allora, andiamo a vedere chi è. Non ho l'età, non ho l'età. Allora, non ho l'età per cantare, perché a questo punto io al Music Tour Award qua non ci arrivo. Abbiamo Red Ronny che è lui, il talent scout che andrà a caccia di questi artisti emergenti e Giovanni Cacamo che ormai è più che affermato. Ecco, qui accade questo. Questo è il Fiat Music Studio dove nelle città dove andremo io incontrerò spontaneamente gente come te che entra dentro oppure che mi porta il CD e gli dirò quello che penso normalmente. Però voglio sottolineare, per essere come Red Ronny, nel senso ammira tanto, è quasi impossibile, però arrivare a un talento tale. Allora, cosa bisogna fare? Cinque tappe, il Fiat Music Tour, cinque tappe, quali sono le città e quali sono i requisiti che devono avere questi gruppi? Gruppi, chiunque può, chiunque crede in se stesso. Io non credo che lui chiedesse, Giovanni, tu chiedevi quali requisiti devo avere o facevi la musica in cui credere? Pensavo di averli, pensavo di avere i requisiti, che erano un CD, delle note, delle parole che si univano in un'armonia a sé, che per me aveva un senso, diciamo. La soluzione è credere nella propria musica, andare avanti, fare belle canzoni, esibirsi dal vivo, mettersi in discussione. Questa è la soluzione. Io posso essere un'opportunità. La soluzione per Cacamo non è stata battiata, è stata un'opportunità, la soluzione che ha creduto in ciò che faceva. E Fiat vi dà questa opportunità, un tour, cinque tappe per diventare protagonisti per un giorno. Tenete i motori accesi.